Scuola elementare Leonida Bissolati, una questione di degrado che va avanti da almeno due mesi dall'inizio dell'anno scolastico. L'area esterna davanti all'edificio è riservata ai bambini della scuola fino alle 4 del pomeriggio, poi diventa parco pubblico. Parcato il cancello, sporcizia e pericoli. La rampa che porta alla palestra è pericolante, le assi si muovono e dal legno spuntano grossi chiodi arrugginiti. In un gabbiotto aperto sono ammucchiati sacchi neri e cartoni. Attorno allo skatepark, gestito dall'associazione Ossarotte Team, rifiuti e lattine. Più in là, cartelli stradali e pezzi di legno. Altra nota dolente è l'area retrostante utilizzata esclusivamente dalla scuola per la didattica. Qui, a periodi, la sporcizia si accumula e i genitori non sanno più a chi rivolgersi per chiederne lo smaltimento. La manutenzione è di competenza comunale, segnalazioni sono più volte partite dal circolo didattico e non solo, ma i reclami sono rimasti senza risposta.